Buongiorno a tutti, oggi parliamo di Assos Inderesi, la nuova community per fare un business etico. Quando si lavora, tu sei un imprenditore, è importante essere molto etici, molto corretti, molto trasparenti e in questa community chiamata Assos Inderesi tu potrai trovare veramente dei valori straordinari, dei valori morali veramente importanti, un confronto costante e continuo per imparare a fare un business etico, perché dobbiamo imparare a essere corretti e trasparenti e non solo pensare solo ai soldi, ma anche a imparare a restituire alla comunità quello che noi abbiamo avuto in cambio da loro. Perciò ragazzi iscrivetevi ad Assos Inderesi, fate un business etico, è corretto, vedrete che avete grandi fortune. Buona giornata e buon lavoro da Joe, il guerriero delle vete. Ciao e a presto! Buona giornata!